Allora ciao a tutti ragazzi, dopo una breve pausa a caffè siamo di nuovo allo store, spiego, mentre Martina è impegnata nelle sue cose. Praticamente ci saranno due file a partire dalle 8 di domani mattina, quindi almeno all'interno del centro commerciale non si può stare. Sanno due file divise in base a chi l'ha preordinato e a chi invece vuole acquistarlo senza preordine. E diciamo che la fila verrà iniziata alle 8 di stasera quando chiuderà il centro commerciale ed essendoci l'unico ingresso noi potremmo metterci là fuori, uso Barboni, fino all'ora di apertura, sperando di resistere. Portateci una sedia. Anche due, due sedie, sarebbero bene due sedie, una copertina e una pizza, non so, vedete voi.